Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione la gestione di capitali illeciti, l'attività di recupero crediti da parte del clan per conto di terzi sono state al centro di un'operazione della polizia a Catania, le indagini della squadra mobile hanno interessato il vertice di Cosa Nostra et ne evidenziando particolare attitudine del gota della famiglia Santa Paola Ercolano verso il settore economico attraverso il reimpiego di capitali illeciti Santa Paola Ercolano si concentravano soprattutto nel settore commerciale, in quello della ristorazione e delle attività ricreative era così che la mafia catanese aveva accumulato un patrimonio milionario che è stato sequestrato ristoranti, impianti sportivi un lido, un auto a lavaggio e anche un salone di bellezza erano intestati a prestanome della famiglia mafiosa con l'operazione Bulldog la polizia di Catania ha arrestato otto persone tra cui Roberto Vacante nipote del campo mafia Nitto Santa Paola per la moglie di Vacante Igrena e Grazia Santa Paola indagata per intestazione fittizia di beni e per altre sette persone è stato disposto invece l'obbligo di dimora La mafia conferma la sua vocazione imprenditoriale così come spiega il capo della squadra mobile etnea Antonio Salvago al microfono di Francesca Aglieri Il cuore della famiglia Santa Paola perché sono stati colpiti di Roberto Vacante che è sposato con Irene Santa Paola ed è il soggetto attorno al cui è girata tutta l'attività di indagini che ci ha consentito di individuare tutta una serie di attività imprenditoriali intestate a prestanome che in realtà erano riconducibili all'organizzazione Un sequestro milionario che ancora bisogna quantificare? Sì, certamente un sequestro milionario sono otto società che gestiscono attività commerciale delle più disparate si va dal stabilimento balneare ai campi da calcetto alla ristorazione, a parcheggi e altro che ci fa capire quanto la mafia sia interessata all'aspetto imprenditoriale e quanto sia importante per lo Stato avere i patrimoni illecitamente acquisiti Hanno prefessato oggi le famiglie degli studenti della scuola Fontana Rossa che si trova nella zona di Vaccarizzo hanno detto ancora una volta no alla costruzione di una piattaforma che si trova nell'oasi del Simeto per la lavorazione e la separazione dei rifiuti La prima protesta era stata avviata dal Comitato per la Vivibilità, Tutela e Salute di Codavolpe lo scorso ottobre ma da allora nulla è cambiato Vediamo se ci sono i presupposti di poter chiedere eventuali danni sia al proprietario della sicurezza sport sia a chi eventualmente leggermente in maniera molto leggera ha concesso queste autorizzazioni Siamo in circa 3.000 abitanti siamo ai confini dell'Ose rispettiamo quello che è finora abbiamo fatto delle azioni in maniera proprio civile rispettando quelli che sono i canoni legali continueremo a farlo stiamo continuando a farlo ma se ci mettono allo stretto poi pazienza non si può torno a ribadire il concetto non si può continuare a vivere in questa situazione Lo scorso anno a Catania le ore di cassa integrazione ordinarie sono scese sotto quota un milione mentre la CIG straordinaria ha sfondato i 4 milioni consentendo la conquista di un poco invidiabile primato tra le province siciliane è un segnale inquietante è la Will di Catania lancia l'allarme C'è un record pericoloso che Catania contiene da altre città siciliane le ore di cassa integrazione straordinarie che nel 2015 hanno sfondato il muro di 4 milioni per Will che annualmente stila il rapporto sulla CIG è un segnale di un inquietante aumento delle aziende in fase terminale di altri posti di lavoro che stanno per andare in fumo Catania è tra le nove province italiane in cui la CIG ordinaria straordinaria in deroga è complessivamente cresciuta più 0,9% nel raffronto 2014-2015 in controtendenza rispetto al lato regionale meno 32,8% e nazionale meno 35,6% secondo Fortunato Parisi segretario della Will catanese qui le cose non vanno per nulla bene la ripresa non si vede proprio nel capoluogo etneo domani è prevista la visita del numero 1 della Will Carmelo Barbagallo il quale analizzerà anche questo report si lavora a traffico aperto per il rifacimento di alcune arterie cittadine e intanto ha destato clamore e indignazione il tappetino d'asfalto sul sagrato della cattedrale di Catania ma si tratta di un caso o di una bufala? a Catania lavori in corso in questi giorni per il rifacimento di alcune strade oramai dissestate la città si prepara alla festività catine con un restyling alle vie che ospiteranno la processione sono iniziati infatti i lavori lungo Via Libertà dove una corsia è stata chiusa al traffico per rifare il manto stradale e proprio a causa del make up in vista della festa si accendono i riflettori anche su una zona centrale centralissima si tratta del sagrato della cattedrale che è stato recentemente rattoppato con dell'asfalto il risultato ha suscitato molte polemiche sul web fra cui quella del critico d'arte Vittorio Sgarbi ma anche i passanti stamani non risparmiano giudizi severi è la rappresentazione plastica del degrado urbano che vive l'intero complesso cittadino ad onor del vero da più parti è stato segnalato che anche prima di questo intervento realizzato in dicembre per evitare di scivolare ed in vista proprio delle festività catine in quell'area c'era un tappetino in asfalto che con l'usura è andato via via sbiadendosi il colpo d'occhio non eccezionale ieri come oggi caso o bufala che esso sia si scia già da qualche giorno sull'Etna sentiamo le raccomandazioni delle forze dell'ordine hanno ripreso a girare gli ski lift di Piano Provenzana e per il weekend è atteso il primo vero assalto alla neve da parte di sciatori e snowboarder sulle piste dell'Etna hanno già preso servizio le forze dell'ordine con le unità sugli sci di polizia carabinieri e guardie di finanza questi ultimi specializzati soprattutto nelle operazioni fuori pista con la collaborazione della forestale come sempre agenti e militari raccomandano prudenza e di rispettare il dialogo della FIS 10 regole facilmente reperibili sul web che sciatori e snowboarder sono tenuti a conoscere e rispettare la loro inosservanza in caso di un incidente può portare ad essere considerati in condizione di colpa e ad essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti sulle montagne siciliane operano anche i volontari del soccorso alpino ed è tutto per questa edizione del nostro giornale vi ringraziamo per essere stati con noi vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento appuntamento alla prossima londra per i 90 anni la regina la regina Elisabetta aveva chiesto che le contrade del Palio di Sena facessero visita loro hanno detto non siamo un circo hanno preso la palla al balzo invece i brokers del Monte Paschi Siena proponendo alla regina delle azioni e dei derivati della banca della banca venerdì 16-21 sabato e domenica 10-22 sposami alle ciminiere di Catania è un'organizzazione expo sposami expo.it per il nostro è un'organizzazione